Sì, pronto? Sono i ratitori. Io l'ho dato! Vi daremo la vostra figlia per 5 miliardi. Ecco, da quando sentite allora 5 miliardi, eh? Allora vuole parlare con questi figli di mutterna di robito. Io ho citato 5 miliardi, come vogliono, perché io sono lì. Allora, ratitori. Sì, sì, sì. No, sì, mi dicono che è una cazzetta per io. Non so come parlo. È proprio pizzatore. Sono disperato. Grazie a tutti. Sono molto disperato per questa cosa.